Un saluto a tutti cari amici di Youtube Adesso sto a fare questo video in collaborazione con Specialist Zombie Samurai e qui si deve parlare della ipotetica terza guerra mondiale Già Nostradamus e Adam Kadmon avevano previsto che dovrebbe scoppiare nel 2019 cioè l'anno scorso, ma ultimamente abbiamo capito dei telegiornali che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America ha mandato dei soldati ad uccidere il generale capo di Teheran Solemani E qua molti si stanno allarmando che siamo vicini a questa brutale guerra che dovrà arrivare Ovviamente, come ben sappiamo, tutti i telegiornali di regime ci stanno facendo odiare i popoli musulmani descrivendoci come dei terroristi quando invece non dobbiamo fare di ogni filo d'erba un fascio e non dobbiamo prendere come oro colato tutte le stupidaggini che dicono al telegiornale soprattutto se sono i telegiornali della Rai o della Mediaset non dobbiamo dar ghiretta perché quelli sono telegiornali di regime e sono sempre di parte sappiamo che esistono molti musulmani che sono delle bravissime persone e non tutti sono dei criminali come ce li vogliono far credere ovviamente questi criminali non dico gli americani ma neanche gli islami questi criminali della Casa Bianca compreso chi comanda a Trump come quei criminali di guerra che erano George Bush Senior e figlio hanno sempre demonizzato gli stati islamici per prendere il loro petrolio e anche altre delle loro materie prime sappiate che il terzo mondo è stato creato proprio da quest'elite totalitaria che comanda tutto il mondo compreso il Vaticano che poi benedice le armi e non è una cosa bella perché Gesù Cristo voleva l'amore amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi che purtroppo i capi di governo e i capi religiosi non stanno facendo la volontà del Signore le guerre servono soltanto per le corporation e per le lobby per poter vendere le armi e anche per dimezzare la popolazione che siamo 7 miliardi e come dice una delle regole del come si chiama quella cosa lì Guidestone della Georgia mantenere la popolazione al di sotto di 500 milioni perciò loro stanno facendo tutte queste cose che vedete le guerre immigrazione povertà disoccupazione eccetera eccetera che sono tutte volute da quest'elite totalitaria noi non dobbiamo dipendere da loro noi siamo migliori di loro a parte che loro in più a noi hanno soltanto il potere e i soldi ma noi siamo migliori di loro in quanto abbiamo dei sentimenti abbiamo l'amore e non dobbiamo farci abbindolare da quei padroni guerriglieri che vogliono soltanto la nostra morte che vogliono che noi dobbiamo sterminare dei popoli soltanto perché lo dicono loro per poi rubargli il loro petrolio e altre materie prime così come vogliono rubare la popolazione loro facendola venire in Europa e scatenando guerre tra poveri bene amici non mi dilungo troppo ho detto tutto l'essenziale la guerra è totalmente inutile per noi è utile soltanto per le multinazionali e per i potenti della terra che magari vadano loro in guerra e non noi bene amici passo la parola a zombie samurai